In un periodo di profonda preoccupazione e speranza, la duchessa di Cambridge, Kate Middleton, si è mostrata al mondo in una luce che bilancia fragilità e forza. La sua recente apparizione al Trooping the Color non solo ha rassicurato il pubblico ma ha anche offerto un momento di serenità al principe William nel giorno del suo compleanno. Tuttavia, la strada verso la completa guarigione dal cancro sembra essere ancora lunga e tortuosa. Nonostante il sostegno e le preghiere da tutto il mondo, Kate ha dovuto fare i conti con la dura realtà dei trattamenti contro il cancro. L'ex segretaria e addetta alla stampa della regina Elisabetta II, Ails Anderson, ha condiviso alcune riflessioni sulle condizioni di salute della principessa del Galles, sottolineando gli effetti collaterali spaventosi, che possono accompagnare la chemioterapia. Queste parole gettano una nuova luce sulla battaglia che Kate sta affrontando con coraggio e determinazione. Kate Middleton parla l'ex segretario della regina. Nonostante le sfide personali, sia Kate che William hanno cercato di mantenere un senso di normalità per se stessi e per i loro figli. La presenza della duchessa al fianco del marito durante eventi pubblici come il Trooping the Color, è stata una fonte di conforto per molti. Inoltre, William è apparso sorridente durante vari impegni ufficiali, dimostrando una resilienza familiare davanti alle avversità. La decisione di Kate Middleton di non partecipare al Royal Ascot quest'anno evidenzia ulteriormente le sfide poste dalla sua condizione medica. Anche se c'è ancora speranza di vederla a Wimbledon quest'estate. Tutto dipenderà dal suo stato di salute e dalla capacità di affrontare eventi pubblici prolungati sotto il sole estivo. La prudenza rimane prioritaria mentre i medici continuano a monitorare da vicino i progressi della duchessa nella sua battaglia contro il cancro. Nel cuore delle difficoltà personali affrontate da Kate Middleton c'è l'amore incondizionato per la sua famiglia. Essere madre dei piccoli George, Charlotte e Louis significa dover bilanciare le esigenze mediche con quelle emotive dei suoi bambini. Il supporto costante del principe William si rivela essenziale in questi momenti difficili. Insieme stanno navigando attraverso questa tempesta mantenendo saldi i valori familiari. Nonostante gli ostacoli imposti dalla malattia. Kate Middleton continua a trovare gioia nelle piccole cose quotidiane. Dall'impegno nella vita scolastica dei suoi figli alla ricerca personale dell'energia positiva attraverso attività significative fatte in casa. Questa resilienza interna non solo dimostra la forza caratteriale della principessa del Galles ma serve anche da ispirazione per coloro che affrontano prove simili nelle loro vite. Dall'impegno nella vita scolastica dei suoi figli alla ricerca. Dall'impegno nella vita scolastica dei suoi figli alla ricerca.